e ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video bomb allora oggi vi mostro l'ultimo corsista non vi mostrerò il nome ovviamente è iscritto qui sotto e oggi un nuovo iscritto al corso battery maker che cosa riceveranno tutti i miei iscritti al corso riceveranno come promesso faldoni cartacei dove ci sono tutti i miei fornitori non solo ragazzi di batterie litio non solo di bms ma anche di fotovoltaico inverter tantissimi prodotti commerciali riceveranno appunto l'attestato di partecipazione battery maker il corso pratico sulle batterie litio poi riceveranno anche un fascicolo tecnico cartaceo che gli servirà da supporto interattivo con il videocorso in più l'accesso al videocorso dove potranno andare a prendere parte alle lezioni video scaricare allegati data sheet pdf tantissimi pdf da leggere da studiare se comunque sei interessato a questo corso power wall maker che il mio secondo corso i pacchi e batterie ragazzi perché sono importanti sono importanti perché ti permettono di creare delle fonti di energia portatile più o meno grande questo è un pacco batterie al litio che io ho realizzato passati cinque anni fa sicuramente cinque anni sicuri e ho stampato un'etichetta ho messo un'etichetta il brand della mia attività 12 volt 20 ampere ora più ci sono usb riuscita due poli positivo e negativo a vite più un piccolo display che mi indica la lo stato di carica dello stesso da qui vado a connettere il caricabatterie per ricaricare il pacco batterie stesso abbiamo detto che un 12 volt come vedi compattissimo piccolissimo in plastica da uso da interno o da esterno ragazzi tu con questo puoi andare a dare energia per esempio a un impianto luce a uno stereo per musica a degli strumenti musicali tanto 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 altro perciò tu non ti soffermare al pacco batterie così cioè grezzo perché il pacco batteria grezzo dopo averlo saldato bloccato nastrato per bene con i fili in uscita lo potrai inserire in questi contenitori farò prossimamente un nuovo video dove vi mostro alcune tipologie di contenitore io non consiglio quasi mai di utilizzare il pacco batterie così per com'è nel senso utilizzate sempre una sorta di protezione o in plastica o in metallo però ovviamente isolando le celle perché se fate cortocircuito con la scocca di metallo è un problema ragazzi perciò in primis meglio in metallo potete utilizzare anche le cassette da esterno quelle elettriche dove vai a mettere i gruppi di derivazione della 220 per esempio quelli industriali più o meno grandi sempre utilizzando i socket neri poi è normale oltre una protezione in plasticatura e ci puoi anche mettere la protezione con guaina termoretraibile esistono guaine termoretraibili più o meno grandi puoi mettere per esempio un pacco fatto fatto così lo metti dentro ti esci fili e già la prima protezione c'è poi questo lo prendi lo infili qua dentro perché super giù siamo lì con le dimensioni più o meno grande così da avere più o meno capacità e hai la doppia protezione mi raccomando proteggere al massimo le celle e vapori acqua in filtrazione perché attenzione può essere utilizzata anche per esempio su una barca questa perché perché internamente anche una gomma che fa da isolante ecco non permette l'accesso di vapori non permette l'accesso di acqua di schizzi è normale che qui e qui va bene forse si può anche ossidare però tu non è che la lasci sempre 24 ore su 24 per esempio su una barca tutela trasporti te la porti poi la ricarichi la 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 togli ecco lo stile standard si presta benissimo anche all'uso in barca niente ragazzi per questo video è tutto spero di sia stato d'aiuto mi raccomando iscriviti al canale e c'è anche telegram il canale telegram dove trovi tutte le offerte di celle bms alimentatori pacchi batterie qualsiasi cosa ti può interessare la trovi sul mio canale telegram in più ti invito anche a dare un occhio ai fascicoli tecnici cartacei che sono questi 7s 10s 3s su amazon ce ne sono tantissimi sempre sotto in descrizione link e poi anche i corsi battery maker power wall maker tutto 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 sul mio sito è sotto in descrizione ciao ragazzi al prossimo video